A partire da ieri e per la durata di otto giorni i tratti stradali di Largo Osta tra la via Tenente Colonnello Lacarrubbe e la via Puglia e di via Puglia tra Largo Osta e via Marche saranno chiusi al traffico veicolare e sarà vietata la sosta su ambe i lati. Il provvedimento previsto dell'ordinanza del sindaco della città Ettore Di Ventura si è reso necessario per consentire al gestore del servizio idrico integrato Girgenti Acque di effettuare urgenti lavori di scavo per la sistemazione della condotta idrica. Durante le ore notturne sarà eseguita una prova di ascolto per poter localizzare la perdita d'acqua cui seguirà in mattinata lo scavo. Pertanto la circolazione degli autobus subirà delle momentanee variazioni. Gli autobus di linea extraurbana in arrivo al terminal di via Lacarrubbe sono obbligati ad accedervi dalla stessa strada mentre il capolinea degli autobus di linea urbana fino alla conclusione dei lavori è trasferito in via Lacarrubbe nello spazio adiacente il monumento a San Pio. Questa mattina si è registrato qualche disagio per il traffico che si è formato a Larga Osta in prossimità delle ore di punta.